Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi è domenica e continuiamo con la serie dedicata ad Arduino E quello che vi porto è un aggeggino veramente carino Diciamo qualcosa di più moderno Tra virgolette Va bene, ma prima di iniziare con il video di oggi Mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete fatto Attivando anche la campanella delle notifiche Ci sono anche i social, telegram e quant'altro Trovate sempre tutto giù in descrizione Detto questo, iniziamo pure con il video di oggi Nel video di oggi ci andiamo ad occupare dei display OLED Prendetelo ovviamente questa affermazione con molte pinze Con tante virgolette Sono display di ultima generazione Hanno delle caratteristiche che rendono effettivamente più adatti A determinati lavori rispetto ai display LCD Quelli che abbiamo visto finora, anche quelli 2C Ovviamente come vanno configurati Si collegano le porte SDA ed SCL del vostro Arduino Funzionano a 5V E ovviamente il ground Non vi sto a far perdere tempo troppo col collegamento Abbiamo necessito ovviamente di una libreria apposita Questa libreria è questa sostanzialmente La U8G2 Che potete scaricare nel link sotto in descrizione Abbiamo bisogno anche delle librerie Arduino, SPI e Wire Anche queste se avete bisogno Alcune di queste sono direttamente scaricabili dal vostro gestore di librerie Altre invece le abbiamo già messe a disposizione in video precedenti Quindi se volete potete andare a controllare Allora lo sketch è molto base in questa cosa Quindi abbiamo l'inclusione delle librerie Abbiamo la definizione di questo tipo di display Che è il display da 0,91 pollici Il modello base Disponibile in due colorazioni O blu o bianca Parlo della scritta Non è personalizzabile la colorazione della scritta Se ci fosse un display Magari un pochettino più performante Tra virgolette Tra le mie mani Ve lo porterò e parleremo anche di quello Una volta fatto questo Ovviamente avviamo il display con l'U8G2 Begin Ovviamente ricordiamoci il punto e virgola Dopodiché passiamo al Void Loop Nel Void Loop prima di tutto abbiamo Una pulizia per così dire Del nostro display Dopodiché abbiamo la selezione del font La selezione del font riguarda il nome E la sua grandezza Questa è modificabile La possiamo portare a 24, 28, 26 Insomma possiamo benissimo fare come vogliamo Qui vi invita alla scelta Di altri font su il sito gtab In realtà all'interno della libreria trovate un file txt All'interno del quale trovate bene o male i comandi da utilizzare E anche le tipologie di font presenti Ne utilizziamo quello che ci dà già di suo preimpostato Inoltre andiamo quindi a questo punto a scrivere il nostro messaggio Lo facciamo partendo da 0 0 è sostanzialmente la casella iniziale Altezza 29 Non partiamo da 0, 0 Se no il testo viene tagliato La scritta sarà Hello World Questo lo verrà inviato ovviamente al buffer Dopodiché abbiamo un'attesa di 3 minuti Tutto il voip loop ovviamente si ricomincerà da capo Andiamo a caricare ovviamente il nostro Andiamo a controllare È sempre il solito Arduino 1 Ok con porta 7 Andiamo sempre a controllare queste impostazioni Carichiamo Noi salviamo Salviamo ad esempio la solita cartella Dove Arduino, Arduino, Arduino Documenti, Arduino Ok salviamolo qui Andiamo a caricare e lo osserviamo Ovviamente il testo è troppo grande Basterà semplicemente ridurlo Lo possiamo portare magari a 20 Quindi carica Aspettiamo nuovamente che venga caricato il tutto E questa volta il testo dovrebbe entrare Mannaggia manca ancora il punto esclamativo Ovviamente riduciamo ancora quanto è necessario farlo E anche in questo caso questa volta dovrebbe entrare pure il punto esclamativo Io ho preparato uno sketch un pochettino più complesso Ve lo copio e ve lo incollo Oggi non scrivo Sono pigro Ok in questo caso che cosa facciamo In questo caso ci sarà una prima parte in cui vi invito a iscrivervi Poi scompare la scritta iscrivetevi al canale E poi infine il mio nome Come vedete io già ho preimpostato diverse dimensioni di carattere I primi tre sono uguali L'ultimo è più piccolo perché ovviamente questa scritta non compariva Ho messo dei delay diversi in base alla velocità di lettura Ovviamente al posto delle virgolette e del nome Potremmo anche inserirci dentro una variabile Se per esempio colleghiamo il nostro Arduino Il nostro carissimo amico DHT11 Quindi possiamo far comparire in uno per esempio la temperatura E in un'altra l'umidità Ovviamente rimuoviamo questa parte qui comprese le virgolette E metteremo dentro la variabile Non abbiamo variabili Ci occupiamo solo di scritta Andiamo a ricaricare lo sketch Come vedete compare la scritta iscriviti al canale Recidoze E se non lo fate mi offendo Con questo concludiamo il video di oggi Come vi ho detto se potrò vi porterò qualche altro tipo di display o led Magari un pochettino più colorato Questo era giusto per iniziare per dare un'infarinatura Noi ci vediamo allora questa settimana con un video recensione Più o meno diciamo E domenica prossima ovviamente con un altro video su Arduino Basta non aggiungere altro Un abbraccio dal vostro Recidoze Ciao ciao